Con noi Tonino Barillà, autore di un'ottima stagione. Tonino, descrivici oggi le tue emozioni da bordo campo. Sicuramente emozioni bellissime, soprattutto perché abbiamo affrontato una partita che tutti ritenevano banale, invece l'abbiamo affrontata con il massimo impegno. Devo dire che tutti i ragazzi in campo si sono comportati in maniera egregia. Parliamo di cose serie. Adesso penso che andiamo a festeggiare. Dove ci vediamo? Io adesso vado a mangiare con la mia famiglia. Dopo vediamo. Va bene. Avvisa la tua famiglia che stasera farai molto tardi. Pensi che siano tutti contenti? No, aspetta che mi butto un po' avanti. Adesso che alla mia moglie glielo dico perché è a casa. Te ringrazio per questa domanda che mi aiuta tanto. Ne faccio un'altra molto importante. Dove passerai l'estate? Sicuramente a Reggio Calabria, nel Miami del Sud. Grazie Tonino. Ciao.